Ciao ragazzi di nuovo insieme, siamo arrivati quindi alla settima puntata del capitolo dedicato al Modern Electric Base, dedicato al nostro mito, Giacomo, e questa puntata è quella che temo un po' di più di tutte perché vado a vedere la famosa gem in me, scritta gem in E in inglese, che Giacomo fa improvvisa sul momento appunto nel video del Modern Electric Base, ora non mi ricordo precisamente a che minuto inizia, però tanto non è questo il problema. Allora, premetto che in una lezione non ce la farò a fare il tutorial di tutta la gem, e premetto anche che lo scopo di quello che poi è tutta l'analisi del Modern Electric Base non è quello di rifare in modo preciso quello che ha fatto lui, ma è quello di capire cos'è riuscito a fare lui inventandolo sul momento specifico che è tutto improvvisato. Sembra una composizione per basso solo, quindi la genialità di questo personaggio è mezza, tant'è che come vedete nel video anche Gerry rimane un po', diciamo, è positivamente sconvolto, e quindi non è ricreare quello che ha fatto lui, ma è cercare di capire come come pensa sul momento, come gli vengono certe frasi, e appunto a proposito di frasi è quello di studiarle per poi interiorizzarle e magari utilizzare qualche frammento poi nelle nostre composizioni, quindi questa è la premessa. Per quanto riguarda la gem, diciamo che a livello armonico, tra virgolette, perché poi ovviamente c'è solo il basso, quindi fa tutto, melodia, ritmica, armonia, vabbè è un genio, diciamo che è pensata in me nel senso che gira un po' intorno al classico me funk, come chiamo io, me settima, quindi si può pensare come se fosse stata creata su un accordo di me settima, poi ovviamente ci gira intorno e lo abbellisce, ci esce, ci torna un sacco di volte che vedremo insieme, però in linea di massima ecco l'accordo su cui è costruito più o meno tutta la gem è questo. Allora, andiamo a vedere piano piano, passo dopo passo, come suonarla e come studiarla nel modo che io ritengo giusto, ovvero passo dopo passo, andando a sentire, io l'ho scritto, quindi l'ho trovato scritto, però mi raccomando di ascoltare, quindi se ce la fate non leggete quello che ho scritto io, anche perché può essere che ci siano degli errori, perché non è semplice scriverla, ma cercate di buttarvela giù a orecchio se possibile. Comunque andiamo a vedere lentamente, parte subito con una ghost, chiaramente, alla Jaro, consiglio quindi anche per il sound, anche se qui diciamo non è proprio il sound tipico di Jaro, però comunque si sente il suo tocco, e si sente anche che ha un tocco molto molto forte, molto deciso, infatti è un'ottima occasione per sentire questi dettagli, visto che c'è solo il basso. Allora, si è detto parte con una ghost, ovvero dal me, faccio la prima frase diciamo, io guarderei tre o quattro battute per volta, allora cosa ha fatto qui? Parte con la ghost e poi fa due quarti staccati, e con molto accento perché appunto il tocco è veramente forte, e ancora di più con l'ottava, quindi mi mi mi, mi mi mi, sempre instaccato, cioè quel puntino sopra la nota, non nota lunga, quindi pausa, ghost, io la prendo ad esempio sul sesto tasto del re, in questo caso, e fa questa frase quindi ghost sesta maggiore classico diciamo sugli accordi di settima appunto quinta quindi quinta si naturale ritorna sulla tonica e si ferma sulla terza maggiore quindi sul sol 10 provate a farlo in loop anche solo questa questa piccola frase questo frammento deve entrare nelle mani e nella testa anche poi c'è una ghost diciamo sull'ultima sull'ultimo movimento in levare e poi andare sulla quarta giusta quindi fa ghost la naturale qui c'è il primo elemento caratteristico la quarta aumentata quindi entra già un po' nella sonorità l'idea diciamo così quindi la un quarto due ottavi di quarta diesis quindi la diesis legato alla quinta giusta che è il si naturale vero? sì classico due ghost quindi due ottavi non ricordo come si chiama questa tecnica aiuto però quella di scendere diciamo con le ghost quindi potete esercitarvi in loop come faccio io quindi la frase viene così scusate quindi si ferma sulla quinta sotto dal sì al sì quindi le potete prendere ad esempio su nono tasto quindi dall'inizio ancora e andiamo avanti quindi quinta battuta altra caratteristica molto molto bella andiamo a vedere pausa sul primo ottavo poi ghost ancora lentamente sentite com'è musicale tutto insieme cosa ha fatto qui? ghost quindi la ghost è sul secondo ottavo del primo movimento settima settima maggiore seconda maggiore fa diesis seconda bemolle quindi il fa naturale ghost fa sempre ghost dopo ogni nota torna sulla tonica andiamo avanti battuta sei molto accentuata questa quinta quindi siamo sulla tonica sul primo movimento un quarto pausa levare è un levare immaginario perché non c'è appunto BPM non c'è metronomo non c'è batteria quindi è un po' assenso un po' scritta è suonata liberamente però potrebbe essere così se se ce la suonassimo col metronomo quindi fa male le dita muovo accento forte sulla quinta riparte la quinta ancora quindi si si settima minore re naturale ghost e sesta maggiore vado parti siamo a battuta numero sette pausa ma ricordo meno io qui aspetta questo è quello che ci sento io quindi una terza maggiore due ottavi una ghost e ci sento un re a vuoto quindi poi rifà quarta giusta quarta aumentata arriva al z nella battuta successiva e riscende sul z uguale a prima quindi con le due ghost e rifà un pochino il giochino di prima molto simile e ritorna sulla tonica passando a seconda maggiore seconda minore tonica mi fermo qui quindi siamo arrivati alla battuta nove dove c'è altri due ottavi diciamo molto accentuati con l'accento bello evidenziato quindi sarebbe ottavo ottavo pausa ottavo ghost pausa ghost pausa vedete questi cliché di giaco sesta quinta tonica terzi fatevele entrare nell'orecchio che sono molto utili e funk non solo tutti i cliché che riutilizza giustamente e quindi qui scende fa questa sesta quinta tonica undicesima battuta terza maggiore di nuovo quarta giusta quarta aumentata quinta ghost e quinta ancora con l'accento la battuta dodici l'ho scritta in nove ottavi scusate l'ho interpretata in questo modo e suonerebbe così pausa c'è questa terzina dalla quarta dalla scusate dalla terza maggiore seconda maggiore seconda minore quindi settima minore sesta maggiore quinta e poi arriva sul la del della tredicesima battuta e io mi fermerei qui per questa puntata diciamo perché sono poche battute ma toste e con molti elementi vi consiglio di esaminare attentamente uno per uno facendo molta attenzione a tutto quello che succede tutto quello che fa già le ghost fondamentali quindi lenti ma precisi questa parola d'ordine e capire ciò che fa capire le frasi capire i suoi ragionamenti che ovviamente lui non stava pensando a scale o cose simili semplicemente stava improvvisando con il suo linguaggio musicale avendo tanta 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 esperienza tante frasi tante frasi interiorizzate che ripropone però il modo giusto per studiarlo secondo me è questo quindi ragazzi io ho fatto del mio meglio per questa prima parte della gem ma non è semplice né suonarla né spiegarla però ce la metto tutta quindi se volete continuare a seguirmi anche nella prossima puntata dedicata al modern electric bass me non fa che piacere vi saluto e al prossimo video